Il segretario regionale del Partito Democratico, Michele Fina, interviene al TG8 per analizzare l'attuale crisi di governo. Dopo due giorni di consultazioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso come noto ai capigruppo 5 giorni di tempo per trovare una soluzione per evitare le elezioni anticipate. Oggi intanto, primo vero incontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Vedremo se sui punti programmatici, che sono il centro dell'attenzione che tutti quanti debbono avere per superare questa crisi, su questi punti ci può essere una convergenza. Certo, non bisogna dimenticare come siamo arrivati qua. Una crisi difficile, pericolosa per il Paese, in un momento molto delicato, creato dalla Lega. Io sottolineo da segretario regionale dell'Abruzzo il motivo per cui noi siamo arrivati fin qua, il motivo della crisi. Una questione interna alla Lega che non è emersa. Le dichiarazioni di questi giorni, di queste ore, dei governatori di Lombardia, Veneto, in generale, i governatori del nord della Lega la denunciano, e cioè il fatto che questo governo non è riuscito a portare a casa della Lega Nord gli interessi del nord contro il sud e contro l'Abruzzo. L'idea dell'autonomia differenziata in realtà è una secessione mascherata ed è proprio questo, insisto, il punto su cui c'è stata e c'è una crisi di governo. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, un rapporto più naturale rispetto a quello precedente? No, ci sono molte differenze politiche, di impostazione, di radice, però appunto siamo in un sistema, in una legislatura in cui nessuno ha la maggioranza da solo. Il prossimo Presidente del Consiglio, ci può utilizzare qualche nome? Ma i nomi che circolano di donne in particolare sono interessanti anche perché il nostro Paese non ha mai avuto un Presidente del Consiglio Donna, questo lo dico proprio a prescindere diciamo così dalla fase politica, sarebbe un bel segnale, sarebbe una risposta anche all'esigenza di ricambio, di discontinuità e sarebbe anche un po' una risposta culturale a un'idea tutta maschile in senso maschilista della politica che in particolare questa destra estrema ha voluto imprimere e sta imprimendo anche nel rapporto con la società, un macismo terribile. Quindi sarebbe anche un elemento di appunto contronarrazione nel Paese e dall'Italia verso i nostri partner europei e nel mondo.